sono le sette del mattino giulio santoro salvatore profeta e agostino selle tre squali che tra un poco prenderanno metà del pescato del marionio guardate la professionalità di giulio santoro una boa di prima categoria questo è lo ionio ricco di pesci tra poco sarà povero perché noi prenderemo tutto arai